ciao a tutti questo è l'allenamento di stasera per il ciclo ormai una gioia oggi è un allenamento terrificante risultato pessimo oggi l'idea era quello di fare 6 minuti e mezzo i 32 kg a un ritmo più o meno sostenuto molto meno che più non vi nascondo che ho provato più volte ad iniziare ma verso i minuti e mezzo due non andava appoggiava a terra dopo tre quattro tentativi di rinfo di raffa si è riuscita a fare la serie buona quella che poi i pochi coraggiosi che vorranno vedranno nel video 6 minuti e mezzo dove sono uscite fuori 53 ripetizioni andata a sentimento senza nessuno che contasse quindi non è che sapessi bene poi dov'ero ma non credo ne avrei fatte molto di più in aggiunta si aggiunge il timer che avevo impostato sul pc che pensa bene dopo tre minuti arrotti di spegnersi e quindi sono andato oltre che alla cieca sui numeri anche sul tempo fino alla fine dell'allenamento pessimo pessimo pessime sensazioni tutto pesanti gambe pesanti non posso neanche dire poca voglia perché la voglia c'era forse anche troppa tant'è che credo di essermi fatto nel pre allenamento insomma troppo troppi pensieri focalizzati su come sarebbe dovuto andare quando avrei dovuto fare che poi non sono riuscito a rispettare sicuramente c'è ancora tanto lavoro da fare al momento non è sostenibile pensare di tenere comunque 28 kg un ritmo di 10 11 a volta anche 12 ripetizioni al minuto per parecchio tempo o comunque non è pensabile pensare di riuscirci diciamo in qualsiasi condizione ecco probabilmente se la giornata non è come quella di oggi ma un po più positiva magari un cinque sei minuti a quel ritmo si possono mantenere oggi decisamente no niente portiamo a casa anche questo continuiamo ad allenarci continuiamo a prepararci il 18 si avvicina e vedremo come va anche perché questo sarà comunque un una prova in pedano dopo comunque parecchi anni che non ci sono più un salito dopo comunque parecchi anni ho anche mollato il cat per fare braccio di ferro e niente vediamo diciamo che è solo l'inizio grazie a tutti ciao 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 ciao